Buongiorno, partiamo subito con la nostra nuova tagliata cosciotti di pollo cotti al forno leggermente speziati con fagioli e rucola eccoli qua iniziamo subito con un piccolo spicchio dalla toscana alla salsiccia guardate questo ospedino freschissimo eccoci qua eccoci con l'aristagliacrumi, siamo pronti tra poco in forno eccola qua ecco qua nel forno pronta e tuffata nell'olio salvatore ma che c'è sta mattina peppe? ma che c'è sta mattina? io mi sto preoccupando ma che cos'è sta mattina? 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 ma che cos'è sta mattina? ma in che senso la musica? e vittorio questa è la musica che ascolti i nostri figli noi abbiamo bisogno di capire la loro psicologia dobbiamo entrare nel testo dei nostri figli e se ascoltiamo la loro musica è importante no peppe a me mi piace un po' di solo no peppe a me mi piace un po' di solo